Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Fabio Tutto Fare Scusate per la qualità video e audio ma sto registrando col telefono Dato che non ho altre telecamere a mia disposizione Banda alle ciance Come avrete sicuramente letto dal titolo qua sotto Oggi andremo a realizzare un disegno utilizzando la cosiddetta pirografia solare Cos'è la pirografia solare? La pirografia solare non è altro che un disegno pirografato Cioè bruciando la superficie del materiale per realizzare un disegno Tranne anziché utilizzare un saldatore o un pirografo per bruciare la superficie Andremo a utilizzare il nostro carvecchio sole E come specialmente? Utilizzando delle lenti di ingrandimento di diversi diametri In maniera tale da realizzare tratti di spessori diversi Odongo a씨 E come specialmente? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.